Simone di Giovanni, mi ami tu, Simone di Giovanni, mi ami tu, più di costoro, mi ami, mi sei amico. Ecco, queste parole, ripetute tre volte da Gesù e precedute tre volte dall'appellativo Simone di Giovanni, sono la premessa all'incarico pastorale, «Pasci i miei agnelli». E notiamo che nel Vangelo secondo Giovanni Gesù non si rivolge a Pietro, cioè non chiama l'Apostolo col suo nome, diremmo di battaglia, col suo nome apostolico, ma lo chiama col suo nome tradizionale, con quello con cui era iscritto nella genealogia della sua famiglia e dei suoi padri, Simone di Giovanni. Simone di Giovanni, mi ami tu, mi sei amico. Perché Gesù rivolge a Pietro, a cui sta per conferire l'ufficio pastorale, questa domanda e non altre? Avremmo potuto immaginare molte altre domande di idoneità che Pietro avrebbe potuto sentirsi rivolgere da Gesù. Per esempio, Simone di Giovanni, sei conscio delle responsabilità che ti assumi. Simone di Giovanni, hai coscienza della tua fragilità. Simone di Giovanni, lo sai che è difficile portare il peso degli altri. Lo sai che si può giungere fino al grido di Mosè, Fammi morire piuttosto, io non veda più la mia sventura. Tanto Mosè sentiva il peso, la responsabilità che gli era stata affidata. Simone di Giovanni, ti rendi conto che non devi predicare te stesso, ma devi predicare Cristo nostro Signore. Simone di Giovanni, ti rendi conto di quanti sono intorno a te i poveri, gli ammalati, i bisognosi, le persone sole da aiutare. Dove troverai tutto il pane per dar da mangiare a questa gente? Tutte queste domande e altre che noi potremmo immaginare sono molto importanti, ma tutto questo si riassume per Gesù in una unica, essenziale domanda, ripetuta con due verbi diversi nel greco che indicano le diverse sfumature dell'amore e dell'amicizia. Simone di Giovanni, mi ami, mi sei davvero amico? Perché dunque è questa la domanda essenziale, anche se presuppone tutte le altre e quindi è soltanto la domanda riassuntiva di una lunga formazione presbiterale. Signore, tu sai che io ti amo. E la risposta che Pietro dà è un'altra domanda,